Con un post che ha rapidamente fatto il giro del mondo, Giorgia Meloni sembrava aver messo un punto definitivo alla sua tumultuosa storia con Andrea Giambruno. La sua decisione di porre fine alla relazione è stata un taglionetto, caratterizzato da coraggio e, senza dubbio, ha generato consenso. Prima di continuare ricordati di iscriverti e attivare le notifiche per non perdere i nuovi contenuti e per sostenere il nostro lavoro. Il tuo contributo è prezioso, grazie di cuore. Il gesto della leader della destra ha preso una piega inaspettata quando ha disertato l'evento del partito Fratelli d'Italia che tanto le stava a cuore. Al suo posto, ha diffuso un video difensivo in cui è apparsa come il nemico da abbattere. Questa inaspettata mossa ha riportato l'attenzione su una vicenda privata che Meloni aveva cercato di tenere nascosta. Mentre i 2.500 sostenitori di Fratelli d'Italia si erano riuniti al brancaccio per l'evento, la decisione della leader ha lasciato un eco di sgomento. Un confidente ha spiegato che Meloni aveva riflettuto fino all'ultimo momento sulla sua partecipazione all'evento, ma alla fine aveva scelto di sacrificare l'unico punto in agenda in cui la sua assenza non avrebbe influito negativamente sull'Italia. Le fonti vicine a Meloni la descrivono come stanca, addolorata, devastata e ancorata alla rabbia. Hanno suggerito che una delle principali ragioni dietro questa decisione potrebbe essere la necessità di affrontare direttamente l'ex compagno e padre della loro figlia di 7 anni, Ginevra. Tuttavia, c'è anche una diffusa preoccupazione tra le persone più vicine a Meloni che il caso di Gian Bruno potrebbe non essere ancora concluso. L'esistenza di ulteriori video o registrazioni audio con contenuti sessuali, così come altre immagini o notizie imbarazzanti, potrebbe rappresentare una minaccia che qualcuno potrebbe sfruttare per danneggiare la Premier. Come ha affermato un esponente del governo, potrebbe arrivare qualcosa di ancora più sconvolgente.